ciao sono marco del negozio passport prima di tutto vi invito a iscrivervi al nostro canale youtube qui sotto e se avete domande o questioni da porci usate tranquillamente i commenti vi risponderemo sempre puntualmente e in maniera speriamo precisa con il diminuire delle ore di luce e di conseguenza con l'aumentare delle ore di buio è molto importante per chi fa attività sia essa la camminata la corsa o anche di sport invernali tipo lo sci alpinismo dicevo è molto importante essere muniti di strumenti che ci consentano di essere visti dalle persone o dagli automezzi che incontriamo e soprattutto poter vedere bene il terreno su cui facciamo attività fisica ecco che oggi voglio farvi una carellata del marchio pezzo che noi trattiamo in negozio guardando e analizzando le varie tipologie di lampade frontali che si possono trovare sul mercato la prima distinzione che vorrei fare all'interno delle lampade del marchio pezzo è fra lampade con tecnologia costruttiva standard lightning e lampade con tecnologia costruttiva reactive lightning fondamentalmente le prime hanno l'illuminazione standard le seconde invece hanno l'illuminazione reattiva vale a dire che la quantità di luce che la lampada emette si adatta a quanta luce è necessaria cioè più è buio e più la lampada aumenta la potenza più invece siamo in orario crepuscolare e più la lampada diminuisce la potenza di illuminazione questo ovviamente per far sì che il consumo sia ottimizzato nel tempo andiamo ora nel dettaglio e vediamo di vedere i modelli che vengono proposti e consigli di utilizzo per quanto riguarda la tecnologia standard lightning abbiamo il modello ticchina o tica la prima ha una potenza di 250 lumen la seconda ha una potenza di 300 lumen questa tipologia di lampada che è innanzitutto molto leggera e tiene anche l'acqua quindi è impermeabile è indicata per chi fa attività tipo nordic walking corsa o camminata la potenza che esprime è già un'ottima un'ottima potenza ed ha un ottimo fascio di visibilità anche in situazioni abbastanza buie il modello successivo quindi anche più potente è il modello actic in questo caso abbiamo una lampada che propone 350 lumen di illuminazione in più abbiamo il fascio rosso il fascio rosso serve a due cose fondamentalmente un fascio di emergenza e anche un fascio che evita gli occhi rossi quando si incontrano altre persone questa è una lampada che è indicata per chi fa running o trail running in ambienti particolarmente bui quindi mi viene in mente viali assolutamente illuminati oppure anche il sottobosco un'altra lampada sempre che rientra sempre nell'ambito della tecnologia standard lightning è la lampada bindi questa lampada è particolare perché è molto leggera poco ingombrante quindi è giusto compromesso per chi cerca una lampada appunto leggera di pochissimo ingombro ma già con un'ottima potenza qui siamo a 200 lumen di potenza l'ultima lampada che vi vado a presentare è la l'ultima nata in casa pezzel qui siamo nella tecnologia reactive lightning e stiamo parlando del modello swift rl questa è una lampada di ultima generazione una lampada che ha la batteria all'interno ricaricabile ma soprattutto è una lampada programmabile come si diceva fa parte della tecnologia reactive lightning quindi una lampada intelligente direi nel senso che grazie a un sensore di luminosità fa sì che la lampada si adatti automaticamente alla luce che c'è nell'ambiente che ci circonda di conseguenza il fascio luminoso va ad essere regolato quindi più potente quando la luce è meno e meno potente quando invece la luce esterna è un po più alta mi viene in mente il classico orario crepuscolare una cosa interessante è la potenza di questa lampada qui siamo a ben 900 lumen di potenza quindi una una lampada che va bene per utilizzo anche mi viene in mente lo sci alpinismo invernale la ciaspolate e anche speleologia anche se però questa non è una lampada specifica da speleologia un'altra cosa interessante da sottolineare di tutte queste lampade è che tutte hanno la tecnologia hybrid cosa significa hybrid fondamentalmente la tecnologia hybrid fa sì che tutte le lampade possano essere utilizzate o con le pile stilo che vengono date in dotazione o con il pacchetto batteria core che può essere inserito dove vengono messe appunto le batterie stilo e che è ricaricabile questa è una ottima soluzione per far sì che si 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 ottimizzi il costo ovviamente e anche l'utilizzo delle batterie quindi c'è minor dispendio sia di soldi che di batterie stilo anche per l'ambiente invece per quanto riguarda la lampada switch rl in questo caso come si diceva prima ha già all'interno una batteria litio ricaricabile che viene ricaricata utilizzando semplicemente un cavetto usb altra cosa di questa lampada è che è programmabile attraverso una app che si può installare anche sul cellulare quindi possiamo ottimizzare il funzionamento della batteria e della lampada in generale utilizzando la app appunto all'interno del nostro cellulare che dire ragazzi spero che questi piccoli consigli possano tornarvi utili nella scelta della vostra prossima lampada vi aspettiamo come sempre presso i nostri negozi oppure se preferite potete acquistarle anche online nel nostro store www.passport.it e ultimo ma non ultimo aspetto qui sotto i vostri commenti se avete dubbio per prestità siamo pronti a darvi le nostre risposte ciao 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 ciao